buongiorno ragazzi oggi solo con Pierluigi facciamo un giro in bici dove andiamo? andiamo verso sud proviamo ad arrivare a vasto non lo sappiamo però ci proviamo bello partire all'alba facciamo questa bella statale 16 adriatica partiti alle 7 in punto piano piano arriveremo nella zona di vasto con l'amico Pierluigi facciamo 4-5 chilometri di discesa bambini buongiorno 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 Musica Siamo sulla sciclabile Adriatica San Lupito Marina Che panorama ragazzi Favoloso Musica Musica Sono un po' più nascosti Sì, sì, infatti Infatti Senti uno però Cosa c'era da me Musica 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 quindi abbiamo superato abbiamo superato paglietta val di sangro e sembra che la pista ciclabile è momentaneamente interrotta adesso stiamo facendo un tratto di statale 16 adriatica l'ido di casalbordino praticamente all'ido di casalbordino che incontriamo incredibile ma vero il mitico franco grandissimo bella giornata bella per la notte però ci possiamo fermare ancora a mangiare qualcosa sì o no è proprio quello stavamo a dire proprio ora che storiaccia la notte Altro caffettino Altro caffettino Altro caffettino Di male in peggio Abbiamo incontrato un carissimo amico come dicevamo Ed ecco come è andato a finire Alla salute Eh sì, sacrifichiamoci Luigi, ce l'abbiamo la benzina per risalire? Assolutamente sì Guardare questo è finito Questo è quasi finito Quindi voglio dire Se qua non basta questo Ti passa là dietro Ciao 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 Ciao